Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi direttamente in HD. Mamma mia che polverone che si è alzato con l'annuncio del ritorno di Red Dead Redemption su Switch e PS4. Rockstar è riuscita per la seconda volta di fila a far arrabbiare tutti quanti con un annuncio di quelli che in realtà dovrebbero suscitare solo un grande entusiasmo. Mentre il CEO di Take Two annuncia candidamente che il prezzo di 50€ è adeguato all'offerta del pacchetto, la fanbase è insorta, richiedendo addirittura a gran voce il boicottaggio dell'intera operazione. E secondo me questa è l'occasione perfetta per analizzare in un video ricchissimo la traiettoria che molti grandi publisher stanno intraprendendo quando si parla di porting e remaster, delle riproposizioni che ormai fanno leva principalmente sull'effetto nostalgia, ma che all'infuori di questo hanno veramente ben poco da proporre, anzi molto spesso non fanno nulla per mascherare una vuotezza di contenuti e miglioramenti disarmante. E cercheremo poi di capire come possiamo muoverci noi consumatori in questa giungla spietata, perché purtroppo al cuor non si comanda e molto spesso, proprio a causa di quella nostalgia che abbiamo nominato prima, acquistiamo consapevolmente dei prodotti sovrapprezzati. Sono molto curioso di leggervi nei commenti perché di esempi di remaster scandalose ce ne sono parecchi e di sicuro tanti di voi avranno avuto a che fare con giochi del genere, ma soprattutto voglio sapere come vi ponete nei confronti di queste riedizioni, però mi raccomando fate i bravi nei commenti e mantenete sempre dei toni civili, altrimenti verrete allontanati dall'armata poraccia impegnata nella conquista non violenta di internet.poro e nella fondazione del poroverso. Iscrivetevi al canale, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un fatto per me molto importante, è una cosa che ho ripetuto già in qualche occasione ma che è fondamentale ribadire. Molto spesso, quando viene presentato un prodotto scadente, la risposta di parte dell'utenza è quella di dare la colpa ai consumatori con frasi del tipo, finché comprate continueranno a proporvi prodotti sempre più scadenti, se la qualità si abbassa è colpa vostra. Il punto è che secondo me questa è una visione estremamente parziale del problema, che in primis serve a elevarsi a livello di true hardcore gamer rispetto alla massa di caproni, una bella botta al proprio ego, dall'altra non tiene conto che la percentuale di utenza che si informa attivamente ed ha accesso a tutti gli strumenti necessari per valutare correttamente un acquisto, in realtà è una parte minuscola di quello che poi è tutto il mercato. Inoltre non sottovalutate il potere che un brand ha sugli appassionati, anche i più informati e consapevoli. L'esempio dei giochi Pokémon per me è perfetto, è sotto gli occhi di tutti che la serie nel corso degli anni abbia subito un crollo qualitativo mostruoso, ma immagino il fan appassionato da una vita che si rende conto di questa problematica, critica aspramente la serie e mentre spera in un miglioramento passa comunque centinaia di ore su Scarlatta e Violetto. Io non penso che il problema sia di chi acquista a malincuore un prodotto del genere. Se da un momento all'altro vi dicessero che la vostra serie preferita di sempre se ne è uscita con un titolo mediocre, l'unico disponibile sul mercato, voi non lo comprereste? Quindi per me la colpa di operazioni del genere è da attribuire solo ed esclusivamente ai publisher che commissionano agli sviluppatori lavori destinati a fallire già in partenza, a fallire da un punto di vista qualitativo ma non necessariamente delle vendite. Il problema è sempre da ricercarsi a monte, quando viene stanziato il budget di una remaster, quando si decide a chi affidare il lavoro e quanto tempo viene dato a disposizione del team incaricato per tirare fuori qualcosa di decente. Come vedremo poi il vero problema risiede nel fatto che non c'è una standardizzazione di queste operazioni e molto spesso il termine porting così come quello di remaster o remake possono significare tutto e il contrario di tutto. Ma sopra ogni altra cosa bisogna sempre chiedersi, ce n'era veramente bisogno? Perché è facile individuare un prodotto scadente e di esempi ne esistono a centinaia. Andando a scavare in un passato abbastanza recente ma neanche troppo, potremmo partire dalla Silent Hill HD Collection, quella che ancora oggi viene considerata come una delle peggiori remaster di sempre. Konami affidò ad iGinx Studio il compito di rimasterizzare Silent Hill 2 e 3, schippando poi il primo capitolo, vabbè, per Xbox 360 e PlayStation 3. Peccato che nel farlo non fornì il codice sorgente dei titoli, ma solo quello che rimaneva di un codice incompleto precedente alla pubblicazione. Quindi ai problemi tecnici che si incontrano normalmente in un'operazione del genere si aggiungevano anche delle enormi difficoltà in precedenza già risolte dal team di sviluppo originale. Il risultato finale fu una riproposizione a dir poco mediocre, piena di bug grafici che rovinavano l'esperienza originale. Tra le tante cose veniva a mancare l'iconica nebbia, un'assenza che poi metteva in rilievo delle texture che i giocatori non avrebbero dovuto vedere, senza contare i vistosi cali di framerate, i bug di desync dell'audio e via dicendo. Ma sono partito proprio da questo esempio perché bisogna rendersi conto che non si tratta di semplici porti ingusciti male, ma di una collection che per anni, anzi più di un decennio, ha rappresentato il modo più semplice e per tanti l'unico di riscoprire le origini di una serie che ha rivestito un'importanza fondamentale all'interno della storia del videogioco. Se siete curiosi di scoprire quali sono le migliori piattaforme su cui giocare i vari capitoli di Silent Hill, vi rimando a questo bellissimo video di Avalanche Reviews. E ok, si tratta di un esempio di dieci anni fa, ma in realtà è un punto di partenza attualissimo. Dopo che Konami ha fatto sparire dagli store digitali i primi Metal Gear, dobbiamo incrociare le dita e sperare che la Master Collection proponga delle versioni quantomeno in linea con i Solid originali. E non dimentichiamoci che nella seconda parte ci sarà spazio, molto probabilmente, per Metal Gear Solid 4, l'unico capitolo della serie a non essere mai stato riproposto e quindi rimasto prigioniero dell'hardware originale, ovvero la PlayStation 3, che ci garantisce che questo porting o remaster sarà in grado di offrire un'alternativa valida all'uscita originale o anche all'emulazione. Molto spesso quindi il discorso diventa un o così o niente, ed è assurdo pensare che indipendentemente dall'importanza del franchise, negli ultimi anni abbiamo avuto un quantitativo di remaster scandalosamente inefficienti. I primi due esempi che mi vengono in mente sono quelli di Sonic Colors e di 13. Sega, per sfruttare la nuova ondata di interesse nei confronti di Sonic, decide di dare nuovamente spazio a uno dei capitoli, anzi, mi correggo, a uno dei pochi capitoli 3D se non l'unico, ad essere stato apprezzato da tutti quelli che lo hanno giocato. E nel 2021 propone la versione Ultimate di Sonic Colors, titolo originariamente uscito solo su Wii e poi DS, in una versione fatta apposta per la console portatile. Di Ultimate questa versione aveva veramente ben poco, ancora una volta si trattava di un lavoro pubblicato senza alcun tipo di controllo qualità, pieno di glitch grafici non presenti nell'originale, e con un nuovo sistema di illuminazione che rovinava in toto il feeling dell'artstyle visto in precedenza. Senza parlare poi delle aggiunte contenutistiche, in gran parte ritenute superflue, che però non tenevano conto di quanto visto nella versione portatile. E stiamo parlando di Sonic, uno dei grandi volti del gaming, che magari oggi non godrà della stessa popolarità che accompagnava il suo nome negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, ma che meriterebbe tutto un altro tipo di rispetto quando si vanno a riesumare dei pezzi della sua storia. E il caso di 13 è speculare. Qui stiamo parlando di un FPS cult basato su una IP sconosciuta e più, e che fu giocato da pochissimi quando fu originariamente pubblicato su Xbox, Gamecube e Playstation 2 nel 2003. Microids ha avuto la brillante idea di affidare a Playmagic un remake pubblicato nel 2020, ed ha raccolto così mali dalla critica da essere stato proclamato il secondo peggior gioco di quell'anno. Sì, ha fatto così schifo che non è riuscito neanche a vincere il primo premio. Complimenti. Ma la storia non finisce qui, perché circa un anno dopo Microids affida a tutto un altro team di sviluppo una patch pensata praticamente per riscrivere da zero il titolo e, passato un altro anno, abbiamo così una versione definitiva di un remake che sembra una remaster uscita male, ed è, a detta di tutti gli appassionati, decisamente un passo in avanti, ma quindi leggermente meno terribile da giocare. È incredibile come ormai la sticella qualitativa di questa remaster sia stata posta così in basso che alla fine, quando viene annunciata una riproposizione di un grande classico, si tira un sospiro di sollievo se si scopre che è stato fatto il meno possibile. In questi giorni sto giocando su Switch alla Radical Dreamers Edition di Chrono Cross, e a tratti lascia basiti quanto poco sforzo sia stato riposto nell'aggiornare questo titolo. Al di là dei classici miglioramenti alla quality of life dei JRPG, che sono apprezzatissimi ma che allo stesso tempo sono diventati praticamente lo standard dell'industria, non c'è niente che mi abbia fatto pensare. Su PS1 una cosa del genere non si sarebbe mai vista. Per dirvi, le opzioni di personalizzazione sono così poche che è possibile cambiare i setting grafici tra nuovo e vecchio stile grafico solo dal menu iniziale e non in game, e inoltre non è possibile selezionare indipendentemente questi elementi. Quindi o vi beccate la grafica PS1 in tutto e per tutto, compresa l'interfaccia, i fondali prerenderizzati e i modelli poligonali, oppure avviate la partita con la veste grafica totalmente rinnovata. Siamo veramente al minimo storico di impegno messo in una remaster, ma forse è meglio così. Penso ad esempio al disastroso lavoro fatto da Bandai Namco con Tales of Symphonia, forse la remaster peggiore vista negli ultimi anni. Ce ne vuole a scrivere HD su un titolo che a differenza della prima versione non gira neanche a 60 fps. Ma i problemi non si fermano qui e l'ultima versione di Tales of Symphonia tra bug, glitch e cat content è un insulto verso il nome che porta. Anche in questo caso vi lascio un video molto interessante che spiega tutte le problematiche di questa versione. E potrei andare avanti ancora per molto citando mostri non sacri come Warcraft 3 Reforge o Mafia 2 Definitive Edition, ma passerei a GTA The Trilogy The Definitive Edition. Già dal titolo si capisce che non si tratta di una collection pensata per i fan, ma di una raccolta messa in piedi da un'intelligenza artificiale, e non sto esagerando. Due anni fa, in occasione del ventennale di GTA 3, Rockstar ha pensato di riproporre la trilogia contenente il gioco base Vice City e San Andreas in un pacchetto di remaster fatte praticamente a budget zero. Al team di Groove Street è stato commissionato un lavoro a metà tra l'upscaling e... non so cosa, tramite l'utilizzo di intelligenza artificiale. Quindi invece che curare singolarmente il passaggio all'HD di ogni singolo asset, tra l'altro neanche presi dalle versioni originali, è stato gettato tutto in un calderone che poi ha vomitato fuori un risultato che non si può che definire scandaloso. Il controllo qualità non è stato neanche preso in considerazione e Rockstar non ci ha pensato due volte a pubblicare una collection a dir poco impresentabile, un titolo che per qualsiasi altra compagnia avrebbe rappresentato un danno di immagine non trascurabile. Ma ancor più odiosa è stata la gestione di questa trilogia, un pacchetto venduto a scatola chiusa, con praticamente zero immagini di gameplay circolate prima della pubblicazione e la scelta di inviare e rivendicazioni di copyright a tutti quelli che anche solo pensavano di parlare del gioco su YouTube utilizzando le immagini del trailer di presentazione. Ed è anche il motivo per cui ho ancora paura ad utilizzare il footage ufficiale di questo gioco. Sarà questa la ragione per cui l'utenza è insorta di fronte all'annuncio del ritorno di Red Dead Redemption. Qui però la situazione si fa ancora più complessa perché, se vogliamo, l'approccio di Rockstar è ancora più discutibile. Red Dead Redemption è uno dei titoli più amati del catalogo Rockstar, ma anche uno di quei giochi che non ha mai ricevuto una riedizione. Anzi, ancora peggio, all'infuori di PS3 e Xbox 360 non ha mai ricevuto una riedizione ufficiale. Microsoft però nel corso degli anni si è contraddistinta per un approccio virtuoso alla retrocompatibilità e non solo ha fatto in modo che Red Dead fosse giocabile su tutte le future generazioni di Xbox, ma a partire dalla One X ha anche aggiunto delle migliorie proprie della retrocompatibilità avanzata che permettono al titolo di girare ben oltre gli standard iniziali, raggiungendo addirittura la risoluzione in 4K, una cosa che questa riedizione di Rockstar non farà. E lo sapete che il titolo è stato anche riproposto fisicamente per Xbox One nella versione gothica e comprende oltre al gioco base anche Undead Nightmare e il multiplayer? E il titolo si trova ancora facilmente su Amazon e eBay a una trentina di euro. Ecco, ora magari vi siete fatti un'idea del perché il titolo non arriverà su Xbox. È un'ammissione implicita che questo nuovo Red Dead in realtà non ha nulla da offrire in più rispetto al titolo originale giocato tramite retrocompatibilità su Xbox. Anzi, considerando l'assenza del multiplayer, lo possiamo dire già adesso. Offrirà contenuti in meno a un prezzo maggiorato. Poi dai, è assurdo pensare che si sia scelto di tagliare fuori l'utenza PC quando il senso di un'operazione del genere dovrebbe essere quello di far conoscere a quanti più giocatori possibili un capolavoro del recente passato. E non venite a dirmi che è un problema di fondi e di costi di sviluppo. Stiamo parlando di Rockstar, non di una realtà indie che per finanziare i suoi progetti ha bisogno di aprire un Kickstarter. E anzi, mi dispiace che apprendersi tutto lo schifo riversato dall'utenza saranno in parte gli sviluppatori che si sono detti molto orgogliosi del lavoro fatto. E io ci credo. Probabilmente si tratta di un lavoro svolto nel miglior modo possibile che c'entra in pieno gli obiettivi imposti dal publisher. Ma appunto, è un problema di obiettivi. Stiamo parlando del voler rivendere, quasi a prezzo pieno, un gioco che viene riproposto a metà su old gen. E sì, forse è meglio avere un porting che un obbrobrio come la trilogy di GTA. Ma non stiamo parlando di una soluzione ottimale, quanto del male minore. È molto bello poi notare come la percentuale di indignati sia completamente diversa se andiamo a vedere i non mi piace sotto l'annuncio del gioco su PS4 e poi andiamo a controllare quelli sul video della versione Switch. L'utenza Nintendo è molto più propositiva verso operazioni del genere e non mi sento di condannarla appieno. Da una parte l'unico valore aggiunto che può avere l'arrivo di Red Dead su Switch è l'idea di giocare a questo storico titolo in portabilità, una caratteristica che rende ancora più scialba e insapore la riproposizione su PS4. Però diciamocelo, nel corso degli anni Nintendo ha abituato malissimo i suoi utenti. Qui potrei aprire un video dentro al video. Non credo ci sia bisogno di parlare nuovamente di quella grandissima occasione sprecata che ha preso il nome di 3D All Stars, né di quanto il pricing di certi esperimenti, tipo Sky Wars World HD, abbia rappresentato dei precedenti molto preoccupanti. Ecco, forse su console Nintendo il problema più grande e percepito è quello di un'assenza di standard. Sky Wars World HD è stato il caso limite, una riproposizione ottima che però si pone in un mercato videoludico parallelo che non trova riscontro con nessun'altra realtà. Una remaster che aggiungeva tanto, ma che costava di più della rilisa originale che arrivava addirittura in un'edizione da collezione con tanto di controller bonus, e il cui prezzo non tornava con le altre uscite su Switch. E sì, continuerò a ripeterlo all'infinito. Metroid Prime Remastered è un po' un autogol per Nintendo, perché si tratta di una delle migliori remaster degli ultimi anni venduta a un prezzo budget. Vedere il titolo per Gamecube tornare in questo modo fa impallidire tutto quello che al momento viene offerto su console ibrida. E credo poi che dovremmo abituarci ad operazioni simili a quanto visto con i primi due Pikmin. Ho come l'impressione che la fine del ciclo vitale dei Switch in gran parte si reggerà su queste remaster molto basilari, difficili da criticare, ma che aggiungono veramente poco all'esperienza originale. E per chiudere va per forza citato anche l'ecosistema PlayStation. Ho trovato da subito fastidiosa l'incertezza con cui Sony si è mossa nel presentare la sua PlayStation 5, soprattutto nel decidere come la next gen si sarebbe posta nei confronti della piattaforma precedente. Dopo un dietrofront clamoroso che ha portato alla conferma della retrocompatibilità con PS4 e la garanzia che per un periodo iniziale i due sistemi sarebbero stati supportati in parallelo, quasi da subito si sono viste delle storture nella gestione degli upgrade generazionali. Ricordiamo ad esempio Horizon Forbidden West, dove per un breve periodo Jim Ryan e Sochi hanno provato a convincere gli utenti che nessuno aveva mai detto che si sarebbe potuto passare gratuitamente dalla versione PS4 a quella PS5. Per fortuna anche su questo è stato fatto un passo indietro. Ma la cosa più assurda probabilmente è stato il remake di The Last of Us parte 1. È vero, non stiamo propriamente parlando di una remaster, ma se rimaniamo allibiti di fronte alle tre versioni di GTA V che attraversano tre diverse generazioni di console e storciamo il naso di fronte a un Red Dead che sa già di vecchio, aver venduto a 80€ al lancio un remake per lo più grafico, e vi ricordo che operazioni del genere a volte sono state indicate come remaster, per di più su una piattaforma dove è accessibile tramite retrocompatibilità la remaster dello stesso titolo, beh questa di certo non è stata la più virtuosa delle operazioni. E guardate, non parlo per partito preso, adoro i due The Last of Us, e recentemente ho giocato al remake del primo e poi al secondo episodio, e seguendo quest'ordine ci si rende conto quanto la parola remake imponga ben altri standard qualitativi. Il secondo capitolo rimane a livello di gameplay su tutto un altro pianeta, c'è poco da fare. E poi è pure inutile aprire una parentesi sui porting PC, non solo dei giochi Sony ma in generale delle grandi produzioni degli ultimi anni. È ovvio che nella maggior parte dei casi l'utenza PC viene trattata come l'ultima ruota del carro, e l'omissione di Red Dead Redemption ne è solo l'ennesima conferma. Comunque, qual è il senso di questa rapida analisi del mercato delle remaster? Rendersi conto che l'industria sta vivendo un periodo che ha un po' di stallo e un po' di crisi, e porting e remaster concettualmente sono tra gli investimenti più sicuri, quelli proprio da minima spesa, massima resa. Bisogna quindi rendersi conto che questi termini, porting, remaster, remake, non garantiscono in realtà nulla, e quindi bisogna valutare di caso in caso se il lavoro svolto incontra i nostri gusti. Cos'è che mi aspetto da una remaster nel 2023? Voglio contenuti aggiuntivi o mi bastano gli asset aggiornati? Voglio un'esperienza quanto più simile a quella originale, oppure mi aspetto qualcosa di molto più digeribile? Beh, questo dipende da voi, ma una volta capito cosa volete, beh, non comprate mai, assolutamente, a scatola chiusa. Nel 2023 non ha senso preordinare un titolo, soprattutto quando si tratta di operazioni di remaster su cui non c'è sufficiente documentazione e non si sa qual è l'effettiva portata del progetto. E questo non ha senso decade nel momento preciso in cui siete super fan di una serie, fanboy sfegatati, appassionati da una vita. In quel caso penso che nulla potrebbe fermarvi, neanche un disastro annunciato. Se vi posso dare un consiglio però, anche se non l'acquistata al day one, informatevi sempre se la situazione migliora e quanto migliora con le patch che puntualmente vengono proposte dai publisher. In definitiva, però, ecco, ricordiamoci che rispetto a 10-20 anni fa ci sono valide alternative, rimanendo sempre nel territorio della legalità. Per quanto i publisher cerchino di far sparire vecchie versioni per obbligare l'acquisto delle riedizioni, si tacciate il web in cerca di informazioni. Non volete spendere 50€ su Red Dead Redemption, l'ecosistema Xbox, mi viene incontro. Volete provare The Last of Us? Comprate a due spicci la remaster per PS4 e giocatela in retrocompatibilità. Volete giocare titoli Switch spendendo la metà? Lasciate perdere. Oppure compratevi una Wii U. E dopo questo consiglio poraccio a 100%, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di porting, remaster e remake. Mi raccomando però, toni civili, vi leggo tutti quanti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo porting tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro re Michele Master, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ciao!